oh signor gilberto carissimo no 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 signor gilberto signor gilberto a uno signor g signor ma morpa si signor gilberto uno di vita vieni qui maledetto si è rifatto ah 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 open suck out perfetto proprio quel nome che stavamo cercando non potevamo rocchillare il signor gilberto eravamo iniziato stavamo iniziando davvero molto molto male questo game occhio perché sto hulk parkurino o c'è qualcuno dentro casa si lo andiamo subito a stanare fammi vedere sto grigiatino qua dentro che sta combinando dove diavolo è o ha parlato gianfranco gianfranco gian 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 ma dov'è fermi top o porca la miseria il segno grigiatino cucinando chiave però un saluto agli ultimi iscritti e iscriviti ora per essere salutato nel prossimo video ok perché per noi segno del problema questa ok loro vogliono prendere la roba il gian franco di 4 salve non gli devo far prendere sa robetta dov'è okiffe signorino buonan Tagli Ma che fa? Mi spara! Oh mio Dio, ti sparo io! Ok, altri playerini Signor Hulk, scappi via Scappi via, ok Abbiamo killato Jumbo Drillo, ma che cavolo? Cioè, raggiungo qualcosa Mettiamoci qua sopra Noi siamo con sei colpi di pistolina Oh, qualcuno Granatine in taface Hanno paura di noi Hanno paura di Hulk se ci tirano le granate Va bene Noi dobbiamo trovare dei colpi e delle armi Ci facciamo niente con sta roba Oh, fermi Soundo strani, soundo strani Colpi per noi Un fucile d'assalto magari anche Sì, lo gradirei molto Ok, sì Quei colpicini lì Sì, Hulk Distruggimi tutto Scombuffo Ok, questo già mi piace Blu Solo che potremmo avere dei colpi cortesemente Che hanno già aperto tutto Ok, ci lanciano le granate Ma come fanno a sapere dove... Fermi signori, ci vengono a prendere 100% perché hanno preso la bandiera E hanno scansionato Quindi molto probabilmente sanno esattamente Tutti, tutte le nostre posizioni Tutti i nostri spostamenti Altrimenti mi sembra troppo, troppo strana Una granata totalmente a caso Qui Di nuovo Ma chi è che mi tira le granate? Ma chi? Ma che diavolo? Ma che? Cos'è sto tizio nell'acqua? Vieni, vieni Ma che voleva quello? Ma era lui l'uomo delle granate? Meno male perché se era lui... Ok, game Cosa? Cosa? Ah, è la nostra abilità Fichissima Dammi qualcosa di croccante Avanti e dammi... Oh, sì! Proprio col martello di desideri Che stiamo cercando Sta robetta niente? Io quasi quasi vi direi Fammi andare a vedere Che diavolo stanno combinando Questi bei ragazzi qua Tanti che sento che sparano Non ho idea di dove... Ok, uno è qua sotto Pistolina Puoi fare il tuo compito? Sì, pistolina Sì Va bene Questo non ci capisce niente Oh mio Dio Bello come non mai Pistolina Facciamogli in piccio Gallina di colore nero Arriviamo da te Signor Gilberto Aspettaci un attimo Ok No, signor Gilberto Stavamo scherzando Oh mio Dio Ma oh! Ma quanto è forte la pistolina? E non abbiamo nemmeno il perk Della pistolina Perché c'è un perk Ora non mi ricordo qual è Quattro secondi E ci parte l'upgrade Noi ce ne dobbiamo andare Perché ho l'upgrade Dov'è la corsa? Quindi potremo fare dei casini Pronto A tutto trick Munizioni A tutto trick Mettimi Lo spara ragnatere Qua davanti Let's go E se non sbagli C'era anche un bel rift Ma a noi non ce ne frega niente Del rift Ora possiamo fare male A chiunque I serici Cosici R4 Scono Nel negozio oggetti Per far parte Della gang E continuano a sparare All'interno Della nostra città Forse Oh Oh Bello Bello Su scanzionamento Ok Fammi fare una roba Fammi fare l'impiccio Fammi fare Stimpeccio Oh mio Dio Dov'è? Dov'è? Ok è rimasto Oh mio Ma signori Ma la pistolina Arma più forte Oh mio Signori Ma quanto è sbloccata la pistolina Sto a 2000 È la prima volta che la prova Ma poi è tipo una pistolina Mitraietta Spara Raffica Sto a sparare Ok 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 ragazzi Ho capito Ho capito Ho capito Vi siete arrabbiati E questi due Si 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 Preso uno Oh Il nuovo re della città E a te ti acciacco così Miserabile No non l'abbiamo per niente acciaccato No no lo so lo so lo so Ragazzi lo so lo so Vi potrei dar fastidio in qualsiasi maniera Ok Si sparano tra di loro Sono contro Qui riesco a distruggere Si Qui riesco Qui riesco Oh mio addio Ti è struggato tutto Vieni qui L'ho preso L'ho preso Ma non ho fatto niente No 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 Si 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 Eh questo ci vuole inseguire Fatti vedere se che siamo Ok Siamo noi contro quel tricerato Volla dietro Io lo vado a prendere Ok no Sparano altri Non so da dove A sto punto Lo andiamo a prendere Alla nostra vecchia maniera Spaccando qualsiasi cosa E stavolta ti ho preso Però agnerotto Ok E sulla destra Non scendere qua dentro Si macchina Ma si macchina No ti prego No no ci sono altri Che ci sparano Questo è quello di prima E un altro E' quello di prima Oh questi sono due Ok l'abbiamo cercato 300 di vita Ci dobbiamo inventare La strategia Abbiamo killato qualcuno Però No no Fermi 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 Dobbiamo andare in safe Volevo devastarli Con la pistolina Ma forse è meglio Aspettarli Una tempesta Perché sono dei pazzi Scatenati Non so nemmeno Se riusciamo a trovare Delle fiambe Per curare la macchina Comunque Devastanti Facciamo una roba però Aspettiamo Ok Abbiamo scansionato Ok Qualcuno 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 L'abbiamo preso C'è qualcuno Che diavolo è Ma che animale è Oh Ampliamento pistole Pistole con Non ho capito niente Però ampliamento pistole Buono Ah ok Sono delle medusine Abbiamo tipo Scansionato Delle medusine I due miserabili All'interno Della città Li lasciamo a life Per il momento Anche perché tanto Ok Forse lo vedo uno Forse lo vedo No no Blef 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 Sì sono rimasti Là dentro A morire Tutti e due Insieme Qua davanti Qualcuno salta Avanziamo Senza problemi Oh Gilberto 1 Gilberto 2 No Gilberto 2 Un'altra terra Le Gif Oh no 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 Ok 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 Stiamo per esplodere Stiamo per esplodere Scappa Hulk Scappa Hulk Ok Super trick Buonissimo A questo punto Osserviamo tutto Tramite Fermi Questo proprio Andiamo Non so se c'è qualcuno Oh no 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 Mi hanno dato Mi hanno arcato Il mio veicolo Ok Due playerini là dentro Li dobbiamo andare a prendere Sì tre playerini qua dentro C'è qualcuno da fuori Che ci spara con l'arco Oh 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 Ci sta ancora sparando con l'arco Vieni qui Elisabetta Vieni qui Oh Probabilmente Scar Color Purple Oh sì 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 Signorina Signorina Eh Ci dobbiamo mettere una strategia Questi probabilmente si busciano Ok Gilato 1 Il problema È che sicuramente Ci vengono a prendere Quelli lì con l'arco Vediamo se L'altro se n'è andato È scappato l'altro Miserabile A te di chillo Però signorina Non ho idea Di dove sono i tizi Che ci sparavano con l'arco Però da qualche parte Di qua Guarda sto lutto Freschi Oh C'è qualcuno che arriva È sotto di noi Prendi Luzi Prendi Luzi Prendi Luzi Presoluti Forse 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 non avete idea contro chi vi siete messi Io Pensi che ho paura di te Già Pietro Pensi che ho paura di te Siamo noi I nuovi boss Di questa Dannatissima città Oh qualcuno Qualcuno qua dentro Qualcuno qua dentro Official Rimbalzino 1 Rimbalzino 2 Rimbalzino 3 Sì È grande esperienza per noi Io ho paura dei tizi Con l'arco Che penso Siano sopra quella montagna E che cavolo Basta 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 I vermi del cespuglio I classici vermi del cespuglio Qui ci dobbiamo mettere una roba Qui ci dobbiamo mettere una roba Perdiamo una bordata di vita Ma almeno Li prendiamo da dietro Loro Oh por È ancora in quel cespuglio Stanno Maledetti Ma tutti gli altri Due playerini Che mancano all'appello Dove diavolo sono No Noi comunque Facciamo un impiccio Del genere Sono ancora più fisciti Di quegli altri Ok Va bene Va bene Capita Capita la situazione No no Ragazzi 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 Non ve la potete prendere Tutti a due conto di me Però Non potete Ok Sì Vieni 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 Eh ti vedo Oh cavolo Pure lui mi vedete Ok Loro sparano Buono 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 Forse buon momento per noi Non so Qual era il cespuglio Sono sicuramente qua tanti Ok Ah loro ci hanno scansionato No Abbiamo scansionato Oh Oh mio dio Di sti maledetti Vermi Ok Uno è di là aiaiaiaiaiaia maledizione a questi miserabili o passano contro si due no stanno contro occhio o gelatino 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 e va bene e va bene e va bene mi avete stufato sia non posso sparare di sienci spuglio ok facciamo finta che siamo un tempo questo bella macchina di chi è ragazzi ma è proprio la mia ed è proprio corazzata e ora vi vengo a fare festa maledizione ok spazzati via quei due siamo in quattro quindi probabilmente no siamo intere perché questo l'ho appena chillato questo qui che diavolo vuole fare un mio dio no è che palle non mi puoi saltellare in ed è a questo e quell'altro ci dovremmo alleari che maledetto ok c'è una macchina distrutta ce ne andiamo io ce ne andiamo io ce ne andiamo io sguazzette d'esperienza vediamo sì 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 si sono sparati si sono stragillati a dire il vero vieni 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 no no non ci credo non ci credo non ci posso credere o sì che ci posso credere ti prego nooo live drop ci ha fatto perdere no 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 no